Esordio col botto per la SBA che al Palasportestra ha battuto la legnaia. Una vittoria nella prima giornata di campionato per l'AMES con la Baschettarezzo che regola al termine di una gara molto combattuta la resistenza della Cantini-Lorano-Firenze. Il match si è concluso per 66-55. Eravamo in una situazione d'emergenza totale, non ci siamo mai allenati quindi ho chiesto veramente qualcosa che non c'entrava nulla con la palacanestra. I ragazzi l'hanno tirata fuori tutti, quindi questo significa che la squadra ti ascolta, sai quello che puoi chiedere e quindi oggi ho visto veramente una cosa che va oltre la tecnica, la tattica, hanno tirato fuori tutto quello che avevano. In condizioni, ripeto, veramente brutte perché non ci siamo mai allenati. Onestamente l'anno scorso è questo che ci ha fatto fare il salto di qualità, cioè tenere un gruppo unito, lavorare duro e a metà anno abbiamo fatto il salto di qualità. La cosa che dovremmo farlo anche quest'anno, abbiamo dei giovani che possono migliorare veramente tanto, abbiamo dei giocatori che possono assumersi le sue responsabilità e fare la differenza. Dobbiamo stare e lavorare tranquilli, dobbiamo lavorare duro e sono sicuro che poi veremo fuori, se abbiamo questo spirito ne sono sicuro. Prossimo appuntamento per l'Ames con la basket domenica 8 ottobre con la prima trasferta di campionato a Quarrata con palla 2 alle ore 18.